Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori notturni stanotte da mezzanotte fino alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in via Bolognese-Vecchia da oggi chiuso il tratto tra via dell'ospedaluzzo della Ruota e via della Lastra. Infine per i treni si informa che la biglietteria di Pontremoli oggi resterà chiusa fino alle 20 e domani e domenica sarà chiusa per l'intera giornata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!